Su Mario il mister è stato deciso, io l'avevo seguito, l'abbiamo visto, l'abbiamo studiato e quindi è un giocatore rapido, anche se molto alto, forte di testa, aggressivo, credo che sia anche un giocatore che possa guidare il reparto ed essere un riferimento per dei calciatori più giovani che completano il reparto difensivo. La Bologna nel mio paese è grande, tutti la conoscono, è una grande piazza e fare parte di un gruppo come quello della Bologna è per me un onore. Dal primo giorno che mi hanno detto che devo venire qui ero contento, dobbiamo lavorare adesso, siamo tanti nuovi, dobbiamo fare un gruppo grande, competitivo e l'obiettivo nostro è chiaro, dobbiamo risalire in A. Ho padrato con tutti e due, l'anno scorso abbiamo giocato contro e anche in telefono questi giorni mi hanno detto che è il migliore per la Bologna, che è una squadra bellissima, tutto lo staff, tutti che lavorano al sede sono persone perfette, è una grande squadra per lavorare. Questo anno mi ha fatto molto bene, il mio primo anno in Italia, c'era davanti da me Astori e Rossettini che sono due centrali importanti e c'era anche Lopez che aveva fatto il centrale, quindi io quest'anno ho imparato molto tattica perché la tattica in difesa in Italia è molto diversa di quella greca e quindi adesso so dove devo essere in campo, prima lo sapevo. È un allenatore che lavora molto, è un allenatore che secondo me è importantissimo perché ha fatto calciatore, era un calciatore importante, quindi conosce la psicologia, conosce come deve essere il calciatore dentro il campo, che è una cosa importantissima secondo me. Conosce il calciatore molto bene e conosce il calcio italiano molto bene e ci guiderà a arrivare nell'obiettivo. Ho finito il liceo e poi sono entrato nell'università, ho fatto due anni e poi ho smesso perché dovevo giocare. Quale cosa facevi? Matematico. Come mai la matematica? Mi piaceva la matematica in liceo, però in università è un'altra cosa ragazzi, non provate. Non provate. Non so, per farla due anni vuol dire che... No, due anni difficili. Non ci sono più dei numeri, i numeri finiscono in liceo. Le lettere? No, neanche, non lo so, i simboli, cose strane. Ma hai intenzione di proseguire oppure di cambiare la straccia? Ho smesso, adesso no, adesso no, però non si sa mai il futuro, forse. Ci sono ancora scritto. E ancora iscritto. Spero che la squadra si rinforzi, forse servono qualche giocatore in più. Io mi aspetto di giocare questa stagione, di fare un certo numero di presenze e aiutare la squadra al massimo, basta.